Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio anale, oggi siamo qui di nuovo su FIFA 17 per effettuare un ennesimo spacchettamento davvero sempre più epico guardate qua la squadra della settimana che c'è da dire nulla uno spettacolo ma non è tutto, guardate la tribuna, le riserve con Pedro Sif, Giovinco Sif e Icardi Sif veramente inumano a noi ci interessa più che altro Icardi Sif, Pjanic Sif, Salah Sif e Firmino Sif questi sono i 4 giocatori che a me interesserebbe trovare quindi signori io direi di partire subito con lo spacchettamento partiamo col primo pacchetto signori eh sono 10 pacchetti da 15.000 se non mi sbaglio vediamo il primo, uh Mustafi, no, Mertesacker tiravo il Mustafi invece no, Mertesacker Mertesacker è boni, rimaniamo figli nei nostri esperimenti verso pacchetto verso pacchetto NO! Movember! Movember Han! oh my lord, sweet baby Jesus, guardate la! 85 di velocità, 88 di fisico, 78 di tiro mio dio Han, Movember il primo il primo del club mamma mia con le carte speciali ci andiamo di brutto eh Wilson, Han e Boyan in lista trasferimenti subito andiamo con il quinto pacchetto skip oh Toprak lista trasferimenti subito Toprak sprecciamento di lingua ooooh vediamo niente vai lista tutto al club dai 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 Sard oh Deula Deulufeu niente male chiedi di scarti vediamo dai fifa dai fifa uuuu Vertonghen come andiamo a vendere dai 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 ultimi due uuuu con o bianca buono con o bianca si può fare qualcosa subito a vendere anche Gabriel ultimo pacchetto 15.000 vediamo ah Glick vabbè in questi 10 pacchetti uuuu Lucas e Rashford buono Rashford Lucas e Glick ci salutano e vanno in lista esperimenti mamma mia bello questo ultimo pacchetto finale comunque questi 10 pacchetti abbiamo trovato belle cose non spettacolari ma la più bella assolutamente è il movember hunt se mi sbaglio si chiama hunt vediamo un attimo a vedere allora lista esperimenti ancora la maledizione degli if dei sif continua non l'abbiamo trovato neanche uno eccolo qua hunt vediamo quanto costa hunt uuuu 25k buono si 25 20k niente male Lucas quanto valeva? ah buono 6k vabbè signori aspettiamo che arrivino altri pacchetti importanti partiamo col primo pacchetto da 25k vediamo uuuu Gonzalo Rodriguez no bad no bad pensavo che era ora ora Mendy quindi Rodriguez e Aziz in lista di esperimenti poi vediamo ci teniamo ciabalala e il resto lo scartiamo tutto perfetto solo giocato in questo pacchetto eh andiamo albioll schifo più in totale terzo pacchetto da 25k vediamo che esce fuori uuuu uuuu danni niente male danni niente male ci potrebbe andare anche molto meglio uuuu qui direi di tenere tutto vediamo con il quarto pacchetto cosa viene fuori a De Bajor no ancora lui pisellone Dumbia no bad li teniamo Dumbiano li mettiamo in vendita entrambi i piselloni e poi scartiamo tutto perfetto quasi 50.000 crediti di scarti ci apriamo ci apriamo l'ultimo il quinto da 25k ce lo schippiamo così brutalmente esce fuori sportiello e bia bia ni interessanti che li mandiamo a vendere ci apriamo il sesto da 25.000 via signori e anche questo ce lo schippiamo vediamo che esce fuori uuuu Carlitos bacca di Turbe e Darmian bellissimi tutte e tre a vendere e il resto scartiamo tutto siamo a 50.000 signori 600 crediti 600 FIFA Points ce li spacchettiamo così in pacchetti da 7.500 ecco qua questo è il club e qui tutto via 50k ci apriamo l'ultimo da 25.000 e poi l'ultimo da 5.000 vediamo Smalling no schifo già ci è che ha non ci è andata bene i pacchetti da 25.000 non sono andati per niente bene no boa l'anno scorso era tozza andiamo a vendere e poi scartiamo tutto l'anno scorso era tozza no boa ultimo pacchetto a 5.000 e poi signori ci salutiamo qui questo bellissimo spacchettamento con pacchetti da 5.000 si con pacchetti da 15.000 da 25.000 non troviamo una ceppa di minchia proprio una bella ceppa di minchia saliamo a 53.000 crediti e non abbiamo trovato niente in quelli da 25.000 ci è andato molto meglio in quelli da 15.000 quindi io vi saluto e vi ringrazio vi invito a lasciare un like a condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti senior ciao a tutti